1, 2, 1, 2, 3 Ci sono punti che uniscono l'amore per l'ambiente al rispetto dei diritti dei più piccoli. I diritti dei più piccoli alla volontà di riciclare e la volontà di riciclare alla convenienza. Sono i nuovi punti Coop, i punti che puoi trasformare in risparmio. Nuova raccolta punti Coop. Più valore ai punti, più valore ai soci. Grazie a tutti.